La Fraternità dei Laici è un'istituzione voluta dal Vescovo Guglielmo e oggi compie 761 anni, è il compleanno della Fraternità. È una storia lunga più di 700 anni, quella della Fraternità dei Laici di Arezzo. La sua nascita è testimoniata da questo documento, il Decreto del Vescovo di Arezzo Guglielmino degli Ubertini, datato 2 aprile 1263. Il Decreto si articola in diversi capitoli che vengono evidenziati anche dalle lettere scritte in maiuscolo. È una scrittura molto attenta con il carattere aretino, questa è una scrittura aretina, cioè un modello di grafia che era stato realizzato in quel periodo XIII secolo nella nostra città. Il segretario del Vescovo di Guglielmo degli Ubertini era un signore che si chiamava Parenzo di Garzo, che era il nonno di Francesco Petrarca. Quindi un mondo che è davanti a noi e non è escluso che questo documento sia proprio stato scritto dal suo segretario, che si chiamava appunto Parenzo di Garzo, nonno di Francesco Petrarca. I rettori riscuotevano le donazioni testamentarie devolute in favore dell'ente da distribuire poi ai poveri bisognosi, tra coloro che hanno chiesto aiuto alla fraternita anche Giorgio Vasari. Quando Vasari nel 1527 gli muore il babbo e la mamma, Vasari venne a chiedere aiuto, aveva fame. Tre sorelle andarono in convento, il fratello e lui, 16 anni e 14 anni lui, arrivarono in fraternita, chiese l'udienza ai rettori e i rettori lo aiutarono. E quando poi nel 1574 Vasari muore, lascia in eredità tutto alla fraternita, riconoscente. E così nei secoli. Nel ventunesimo secolo cosa rappresenta la fraternita? La fraternita nel ventunesimo secolo mantiene gli ideali di fondazione, ideali che hanno caratterizzato tutti questi secoli. E in più diventa contemporanea perché il palazzo è aperto. Io ho sempre definito questo palazzo patrimonio di tutta la città di Arezzo ed è il patrimonio di un palazzo per il futuro. Qui vengono realizzati e saranno realizzati eventi mai verificati primi in città. Quindi la contemporaneità è dare questo grande involucro che è il palazzo di fraternità per lo sviluppo sociale, culturale e artistico della città. Ma non finisce qui perché se io riesco, come siamo riusciti a colpivare 1300 ettari di terreno e possiamo produrre una bottiglia di olio o una bottiglia di vino e se una bottiglia di vino e una bottiglia di olio finisce sulla tavola degli arettini, questo è un segno di contemporaneità.